Adesso volevo far intervenire Antonio Cipolletta, il nostro poteta muratore, che è sempre impegnato in prima di anche lui con le sue poesie e con la legalità. Lascio la parola ad Antonio. Ti ringrazio. Io ho seguito moltissimo in quei ultimi giorni le tv nazionali e locali che parlano del ricordo di Falcone e Borsellino. La cosa che più mi ha colpito di questa intervista è il fatto che Borsellino abbia detto adesso tocca a me. E' un personaggio che mi è rimasto molto impresso perché non ha detto adesso abbandono, no, ha detto io continuo sulla strada a rischio di quanto può succedere affinché la legalità vinga sul malaffare e su quello che sono le cose più brutte del nostro paese. E' avuto il coraggio di continuare quello che era la collaborazione con Falcone affinché potesse portare avanti un discorso di legalità e quindi questo diciamo che ha avuto un coraggio immenso perché poi avere a fianco un aiuto come Falcone era una cosa importantissima. Poi restandone un pochettino da solo rimane una cosa grandiosa. E questa è una cosa che mi è rimasta molto impressa e apprezzo moltissimo. questi personaggi che al di là della loro storia, del loro sacrificio, noi oggi poco ci importa e lo testimonia un pochettino, scusa tutti quanti, la presenza di tanti concittadini che a questo fatto qua nonostante i cartelloni, nonostante la pubblicità che abbiamo fatto noi non si è interessato molto, forse perché a tante persone non mi interessa questo discorso. Ma io voglio essere qua oggi in prima linea per testimoniare quello che sono stati i sacrifici dei nostri eroi perché io mi chiamo eroe queste persone e che ci hanno dato tanto e ci hanno insegnato moltissimo. Io non voglio riungarmi troppo perché di storia di questa ho portato solo una cosa, una testimonianza. Questo libro qua, io morto per dovere, è la storia di un poliziotto che abbiamo fatto diverse manifestazioni anche al comune di Gualiano se ricordo bene e quindi mi è stato regalato questo libro e che ne ho letto tutto quanto. e tutte le persone che si occupano alla mafia, alla cavolo, sono soggette poi ad essere un pochettino solpa del sé. Non lo so perché dall'istituzione, dal governo, perché tutti quanti sapevano della terra dei fuochi della nostra zona, di Napoli Nord in generale, lo sapevano tutti quanti, le grandi istituzioni eppure non hanno fatto niente. E di questo mi meraviglio. perché le persone quando vogliono fare qualche cosa devono avere l'aiuto innanzitutto dalle istituzioni. E queste istituzioni dove stavano? Che cosa hanno fatto? E noi ci ritroviamo oggi con la zona di Napoli Nord piena di rifiuti, di malattie e di malaffare. E questo io non lo accetto. Purtroppo è una realtà che io non condivido. Come non condivido ovviamente il sacrificio che hanno dovuto fare qualcuno e Borsellino per darci oggi una dimostrazione che con il coraggio si può affrontare tante volte una realtà che non ci appartiene, che pare che non ci interessa. Ma ad alcune persone, ad altre mi interessa moltissimo. E io in virtù di questo tempo fa, non adesso, ho avuto pensieri liberi di una mia poesia sulla camorra. E chiudo con questa. camorra, che brutta parola. Parola che solo odio e prepotenza, quello che subiscono le persone per bene. Persone che ogni giorno lavorano onestamente dopo aver sofferto tanto per un posto di lavoro. E quando questo posto non lo trovano sono felici, fino al settimo cielo. Quello stesso cielo che poi vuole con sé. Ma non è il cielo che lo chiamo, è la camorra che lo uscite. Giudici, politici, ma chi aspettate? Non vedete quanta gente piange per il dolore di una perdita cara. Innocenti senza alcuna appartenenza, senza colpa alcuna, per sbaglio si dice, come nel caso di Pasquale Romano morto a 33 anni per sbaglio di persona. Che strano destino. E noi, padre, madre, familiari tutti. Ma chi ci ripagherà di una perdita inaudita? Potremmo noi pensare solo a un perdono? E facendolo forse i nostri cari ritornerebbero? Dio dei cieli e della terra, perdonali tutti e tutti voi. Noi ancora non possiamo farlo. Le nostre ferite sanguino ancora, ma forte e sempre resta il loro ricordo. di Pasquale Romano e tanti altri innocenti, vittime della camorra. Camorra, cabretta parola. Grazie. 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 Grazie.